Vittorio Petrelli si avvia finalmente alla conclusione della questione degli usi civici. È arrivata questa sentenza da parte del Tribunale che tratta questo difficile argomento. Parliamo di questa novità. Diciamo che oggi ci sono le condizioni per risolvere amministrativamente la vicenda, quindi per tutti gli interessati. Cosa è successo? Sono state fatte da 80 cittadini che erano coraggiosi, che hanno messo mano al portafoglio, delle cause. Praticamente abbiamo trovato dei documenti, degli atti importanti, che dimostrano che praticamente nel 1827 la proprietà dello Stato Pontificio fu venduta a privati e quindi praticamente decadevano le condizioni dell'uso civico. Noi questo l'abbiamo fatto valere e abbiamo portato questi documenti all'interno di queste cause. Venerdì finalmente è stata messa il dispositivo di sentenza. Cosa significa? L'esito finale di una causa, che era la causa pilota, dice che il terreno di questo proprietario, ma che può essere esteso anche a tutti gli altri per gli atti che abbiamo trovato, è di natura allodiale, cioè di natura privata, fin dal 1827. E pertanto non può essere, diciamo, far parte del patrimonio dell'Associazione Agraria di Civitevecchia. A questo punto tutti i cittadini dovrebbero fare delle cause, ma lo stesso commissario, lo stesso giudice di quel tribunale aveva detto ma trovate una soluzione amministrativa. Adesso con questa sentenza nessun soggetto ha più problemi di Corte dei Conti perché se applica questa sentenza e la estende a tutto il caso nessuno verrà chiamato dalla Corte dei Conti. Allora io ho scritto una lettera al Presidente Zingaretti, all'assessore competente e onorati, ma anche agli altri soggetti come la stessa Agraria. Cerchiamo di chiudere questa storia nel bene e nell'interesse di tutti. Sono stati fatti dei danni, lasciamo stare, però adesso ci sono tutte le condizioni per chiudere questa vicenda. E allora dovremo aspettare che cosa dirà Zingaretti e mi auguro anche che il sindaco tedesco faccia le pressioni opportune della carica di sindaco perché sennò poi alla fine non è che uno fa il sindaco e finisce lì. Perché se qui, tra l'altro, non ci fosse stato l'impegno dei cittadini, di quei cittadini che non solo hanno messo mano al portafoglio, ma oltretutto che mi hanno seguito in questa vicenda, ma che hanno dedicato alcuni di questi giornate intere nella ricerca di questi atti, perché se non si fossero trovati quegli atti, noi oggi non staremmo a questo punto. Sapete che sono arrivate ai cittadini queste lettere. Per chi ha fatto le osservazioni? Comunque siamo oltre 1.500 di queste lettere che sta inviando la Regione. Sarà l'occasione di rispondere al Presidente, dove tra l'altro loro dicono una cosa importante, che loro si rimettono a quello che sarà la decisione del Tribunale. Allora, a maggior ragione che si rimettono alla soluzione del Tribunale, noi chiediamo l'estensione per tutti quanti. Però dobbiamo rispondere. Allora, noi la sede è rimasta sempre quella, e quindi serietà politica, non è finita l'elezione, è chiuso. Venite di fronte alla sede, troverete le modalità, ci troverete e noi vi invitiamo a fare questo nell'interesse di tutti.